Ancora una volta non si può parlare di scoperta. Quelli annunciati dall'esperimento americano CDMS sono solo indizi di possibili particelle di materia oscura e non sono i primi. Già nel 2010 lo stesso esperimento, collocato sottoterra in un'ex miniera del Minnesota, aveva osservato due eventi sospetti, che però potevano essere spiegati anche come oscillazioni casuali del rumore di fondo. Ora il team di CDMS ha registrato tre eventi che potrebbero essere le collisioni tra particelle ordinarie e le WIMP, le presunte particelle di materia oscura. Interessante il fatto che i dati indicherebbero una massa delle WIMP di 8,6 GbV, molto più bassa di quanto la maggior parte dei fisici si aspetti, e più bassa di quella suggerita dai dati di Xenon, un esperimento in corso ai laboratori del Gran Sasso. Ma per i dati di CDMS il livello di confidenza statistica è 3 Sigma, ben sotto i 5 richiesti per parlare di scoperta. La gara a chi scova per primo una particella di materia oscura resta insomma apertissima.